Sì, sì, venga mister! Ne approfittiamo prima della premiazione, così a caldo, adesso si è calmato, se dava altri 5 minuti di recupero, guai, se lo mangiava vivo! Non c'è dubbio, perché c'era molta attenzione, la partita ci avevamo giocato alla grande, era una finale di un torneo importante, quindi ci tenevamo tanto, poi abbiamo perso il giocatore nostro che è un giocatore immagine, che ci fa giocare e ci dà tanto durante la partita. Quindi il nervosismo c'era, però erano i limiti giusti, abbiamo meritato penso la partita e il torneo, questo fa merito dei ragazzi e dell'impegno che ci hanno messo. Assolutamente! Grazie mister e complimenti ancora! Grazie, grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie! Sì, grazie a tutti! Fa' la correzione! Sì, è il primo della lunga serie! Ok? Bravo Andrea! Un applauso per Andrea. Miglior portiere viene premiato dal dirigente dell'Atletico Gosa Mancosimo e della squadra del Fertilia Galifi Davide. Un applauso per Davide. Miglior giocatore categoria giovanissimi viene premiato dal presidente dell'Atletico Gosa, signor Camindu Cristiano. E dell'Atletico Gosa, Matteo Cesari. Un applauso per Matteo. Passiamo alle premiazioni dalle squadre. Quarta classificata viene premiata dal dirigente dell'Atletico Gosa, signor Soggiu Tiziano. Atletico Gosa. Guidati dai mister Cesari Giugno. Terza classificata premia segretario dell'Atletico Gosa, signor Antonio Valdino. Terzo posto, Latte Dolce. Grazie. Grazie mille. In premia il vicepresidente dell'Atletico Bosa, professor Mario Gominu, e si qualifica quindi al secondo posto la squadra dell'Algheo. Un applauso per Bagheros e con una plassificata. Grazie mille. Passiamo al primo posto, i vincitori dell'edizione Bosa Cittareggia, primo trofeo Bosa Cittareggia, premia il signor sindaco del comune di Bosa, signor Piero Casura, e si qualifica al primo posto la società. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.